Questa è stata una sessione meravigliosa. Quando sono stato chiamato come Presidente della Chiesa, mi sono detto, voglio in realtà scegliermi un'altra chiamata, voglio essere un consigliere del coro. Eh sì, sono molto orgoglioso del nostro coro. Una volta mia madre mi disse, Tommy, sono molto orgoglioso di tutto quello che hai fatto, ma ho una cosa da dirti. Tommy, avresti dovuto continuare a suonare il pianoforte. E così mi sono seduto al pianoforte, ho suonato qualcosa per lei. E ho cominciato a cantare. E poi le ho dato un bacio sulla fronte e lei mi ha abbracciato. Penso spesso a lei. Penso a mio padre. Penso a tutti le autorità generali che sono andate prima di noi. Penso a tutte le vedove, a tutti coloro che sono passati prima di noi. Tutti coloro che hanno sofferto, che hanno riso. Una sera ho visitato una donna sola. Una donna malata. E la figlia mi disse, piano, perché forse già dorme. L'ho chiamata per nome mentre si è svegliata e mi ha preso la mano e mi ha detto, sapevo che sarebbe venuto. Come avrei potuto non venire? Che bella musica. La bella musica tocca il mio cuore. Miei amati fratelli e sorelle, abbiamo sentito messaggi ispirati di verità, di speranza e di amore. I nostri pensieri si sono rivolti a colui che espiò i nostri peccati, che ci mostrò il modo in cui vivere e pregare e che dimostrò con le sue azioni le benedizioni del servizio proprio al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Nel libro di Luca, capitolo 17, leggiamo di lui. Ed avvenne che nel recarsi a Gerusalemme egli passava sui confini della Samaria e della Galilea e come entrava in un certo villaggio gli si fecero incontro dieci uomini lebrosi i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce dicendo Gesù, Maestro, abbi pietà di noi e vedutili. Egli disse loro andate a mostrarvi a sacerdoti e avvenne che mentre andavano furono mondati e uno di loro vedendo che era guarito tornò indietro glorificando il Dio ad alta voce e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra ringraziandolo e questo era un samaritano Gesù rispondendo di sé i dieci non sono stati tutti mondati e i nove altri dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio fuorché questo straniero e gli disse levati e vattene la tua fede t'ha salvato attraverso l'intervento divino a coloro che erano lebrosi fu risparmiata una morte lenta e crudele e furono date nuove prospettive di vita la riconoscenza espressa da uno di loro meritò la benedizione del Maestro l'ingratitudine mostrata dai nove la sua delusione fratelli e sorelle ci ricordiamo di rendere grazie per le benedizioni che riceviamo ringraziare sinceramente ci aiuta non solo a riconoscere le nostre benedizioni ma inoltre apre le porte del cielo e ci aiuta a sentire l'amore di Dio il mio amato amico il presidente Gordon Binkley disse quando camminate con gratitudine non camminate con arroganza ansietà ed egotismo camminate con uno spirito di gratitudine che vi è adeguato e che benedirà la vostra vita grazie Gordon nel libro di Matteo nella Bibbia c'è un altro resuconto sulla gratitudine questa volta come espressione d'amore da parte del Salvatore mentre viaggiò nel deserto per tre giorni più di quattromila persone lo seguirono e andarono con lui e gli ebbe compassione di loro poiché per tre giorni non avevano mangiato e i suoi discepoli tuttavia si chiedevano dove potremmo avere in un luogo deserto tanti pani da soziare così gran folla come molti di noi i discepoli vedevano solo quello che mancava e Gesù chiese loro quanti pani avete ed i discepoli risposero sette e pochi pescetti allora Gesù ordinò alla folla di accomodarsi per terra poi prese i sette pani ed i pesci e dopo aver reso grazie li spezzò e diede ai discepoli e i discepoli alle folle notate che il Salvatore rese grazie per ciò che avevano e ne seguì un miracolo e tutti mangiarono e furono saziati e dei pezzi avanzati si levarono sette panieri pieni tutti abbiamo avuto momenti in cui ci siamo concentrati su ciò che ci mancava invece che sulle nostre benedizioni il filosofo il filosofo greco epiteto disse saggio è l'uomo che non si duole per le cose che non ha ma che gioisce per ciò di cui dispone la gratitudine è un principio divino e il Signore dichiarò tramite una rivelazione data al profeta Joseph Smith ringrazia il Signore tuo Dio in ogni cosa e in nulla l'uomo offende Dio ovvero contro nessuno si infiamma la sua ira se non contro coloro che non riconoscono la sua mano in ogni cosa nel libro di Mormon ci viene detto di vivere quotidianamente nella gratitudine per i numerosi atti di misericordia e benedizioni che egli vi concede quali che siano le nostre circostanze ciascuno di noi ha molto di cui essere grato se solo si ferma e contempla le sue benedizioni questa è un'epoca fantastica per stare sulla terra sebbene vi siano tante cose sbagliate nel mondo d'oggi ve ne sono anche molte che sono buone e giuste vi sono matrimoni che funzionano genitori che amano i figli e si sacrificano per loro amici che si curano di noi e ci aiutano insegnanti che insegnano le nostre vite sono benedette in modi innumerevoli possiamo innalzare noi stessi e gli altri quando ci rifiutiamo di rimanere nel regno dei pensieri negativi e coltiviamo nel nostro cuore un atteggiamento di gratitudine se l'ingratitudine si può annoverare tra i peccati gravi allora la gratitudine trova posto tra le più nobili virtù qualcuno ha detto che la gratitudine non solo la più grande delle virtù ma la madre di tutte le altre come possiamo coltivare nel nostro cuore un atteggiamento di gratitudine il presidente Joseph F. Smith sesto presidente della chiesa fornì una risposta e gli disse l'uomo grato vede molte cose nel mondo di cui essere grato e con lui il bene supera il male l'amore soggioga la gelosia e la luce scaccia le tenebre dalla sua vita e gli continuò dicendo l'orgoglio distrugge la nostra gratitudine e al suo posto innalza l'egoismo quanto siamo più felici alla presenza di un'anima grata e affettuosa e quanto dovremmo stare attenti a coltivare per mezzo di una vita devota un atteggiamento di gratitudine verso Dio e l'uomo il presidente Smith ci sta dicendo che una vita devota è la chiave per possedere la gratitudine il possesso di beni materiali ci rende felici e grati forse momentaneamente tuttavia le cose che offrono felicità e gratitudine profonda e duratura sono le cose che il denaro non può comprare le nostre famiglie il Vangelo i buoni amici la salute le nostre capacità l'amore che riceviamo da chi ci circonda purtroppo queste sono alcune delle cose che ci permettiamo di dare per scontate l'autore inglese Aldo Sachs le scrisse gran parte degli esseri umani ha la capacità quasi infinita di dare le cose per scontate spesso diamo per scontate proprio le persone che meritano di più la nostra gratitudine non aspettiamo finché non sarà troppo tardi per esprimere tale gratitudine parlando di persone care che aveva perso una donna dichiarò il suo rammarico in questo modo ricordo quei giorni felici e spesso desidero di poter dire agli orecchi dei morti la gratitudine che era loro dovuta in vita e che fu raramente espressa la perdita di persone care quasi inevitabilmente porta alcuni rimpianti nel nostro cuore minimizziamo quei sentimenti per quanto umanamente possibile esprimendo loro frequentemente il nostro amore e la nostra gratitudine non sappiamo mai quando sarà troppo tardi un cuore grato quindi sia esprimendo gratitudine al nostro Padre Celeste per le sue benedizioni e a coloro che ci circondano per tutto ciò che portano nella nostra vita ciò richiede uno sforzo cosciente almeno finché non avremo veramente acquisito e coltivato un atteggiamento di gratitudine spesso proviamo gratitudine e intendiamo esprimerla ma ci scordiamo di farlo o semplicemente non lo facciamo qualcuno ha detto che sentire gratitudine e non esprimerla è come incartare un regalo e poi non offrirlo quando incontriamo difficoltà e problemi nella vita spesso è difficile per noi concentrarci sulle benedizioni tuttavia se cerchiamo abbastanza a fondo e guardiamo abbastanza bene saremo in grado di sentire e riconoscere quanto ci è stato dato vi racconterò la storia di una famiglia che riuscì a trovare delle benedizioni durante gravi difficoltà questo è un resoconto che ho lessi molti anni fa e che ho conservato per via del messaggio che trasmette fu scritto da Gordon Green e apparve su una rivista americana più di 50 anni fa Gordon racconta di essere cresciuto in una fattoria del Canada dove lui e i suoi fratelli devono sbrigarsi per tornare a casa da scuola mentre i altri bambini giocavano a baseball o andavano a nuotare il loro padre tuttavia ebbe la capacità di aiutarli a comprendere che il loro lavoro aveva valore ciò era particolarmente vero dopo il raccolto quando la famiglia festeggiava il ringraziamento poiché quel giorno il padre faceva loro fare un inventario di tutto ciò che avevano la mattina del ringraziamento egli li portava nello scantinato dove c'erano fusti di mele contenitori di barbabietole carote imballate nella sabbia e pile di sacchi di patate come pure pere grano fagiolini marmellate fragole e altre conserve che riempivano gli scaffali egli faceva contare tutto ai figli attentamente poi andavano nel granaio per stabilire di quante tonnellate di fieno e di quanti cereali disponevano contavano le mucche i maiali i polli i tacchini e le oche e il loro padre voleva vedere di quanto disponevano ma in realtà sapevano che voleva che si rendessero conto quel giorno di festa di quanto Dio li avesse abbondantemente benedetti e avesse sorriso sulle loro ore di lavoro infine quando si sedevano a mangiare ciò che la madre aveva preparato le benedizioni erano qualcosa che sentivano veramente Gordon tuttavia espresse che il ringraziamento che ricordava con più gratitudine fu l'anno cui sembrò che non avessero nulla per cui essere riconoscenti l'anno era iniziato bene avevano del fieno avanzato tantissime sementi quattro figliate di maiali e il padre aveva un piccolo gruzzolo da parte per poter comprare un giorno una macchina per la raccolta del fieno quella che la maggior parte degli agricoltori sognava di possedere fu anche l'anno in cui nella loro città arrivò l'elettricità sebbene non a loro perché non potevano permettersela una sera mentre la madre di Gordon stava facendo il bucato giunse suo padre fece il suo turno al lavatoio e chiese alla moglie di riposarsi e lavorare pure a maglia le disse trascorri più tempo a lavare che a dormire pensi che dovremmo arrenderci e usare l'elettricità per quanto è euforica per quella prospettiva versò una o due lacrime al pensiero che non avrebbero comprato la macchina per raccogliere il fienno così quell'anno la linea elettrica fu tirata nella loro strada per quanto non fosse nulla di straordinario acquistarono una lavatrice che funzionava tutto il giorno da sola e delle lampadine che pendevano da ogni soffitto non c'erano più lampade a olio da riempire non più stopini da tagliare non più cammini fuliginosi da lavare le lampade furono immagazzinate in soffitta l'arrivo dell'elettricità nella loro fattoria fu quasi l'ultima cosa buona che accade quell'anno proprio mentre il raccolto cominciava a uscire dal terreno iniziarono le piogge quando l'acqua finalmente calò non c'era più neanche una piantina piantarono di nuovo ma altre piogge si abbatterono sul raccolto le patate marcirono nel fango vendettero un paio di mucche tutti i maiali e altro bestiame che intendevano tenere a prezzi molto bassi perché tutti gli altri dovettero fare lo stesso tutto il loro raccolto di quell'anno fu un appezzamento di cime di rapa che era resistito alle tempeste poi fu di nuovo il giorno del ringraziamento la madre disse forse quest'anno dovremmo scordarcelo non abbiamo neanche più le oche tuttavia la mattina del ringraziamento il padre di Gordon si presentò con un coniglio e chiese alla moglie di cucinarlo e la riluttante si mise al lavoro dicendo che ci sarebbe voluto tanto per cuocere quella carne dura e vecchia quando infine fu posto sulla tavola con alcune cime di rapa sopravvissute i figli rifiutarono di mangiarlo la madre di Gordon si mise a piangere poi suo padre fece una cosa strana salì in soffitta prese una lampada a olio la rimise sul tavolo e la accese disse ai figli di spegnere la luce elettrica quando si ritrovarono solo con la lampada riuscirono astento a credere che prima fosse sempre stato così buio si chiesero come avevano mai fatto a vedere qualsiasi cosa senza le luci brillanti dell'elettricità il cibo fu benedetto e tutti mangiarono quando finirono la cena tutti sedevano tranquilli Gordon scrisse nell'umile oscurità della lampada a olio riuscimmo di nuovo a vedere chiaramente fu una cena deliziosa il coniglio sembrava avere il gusto del tacchino e le cimi di rapa furono le più dolci che potevamo ricordare la nostra casa malgrado tutto ciò che mancava per noi era davvero ricca fratelli e sorelle esprimere gratitudine è gentile e onorevole mostrare gratitudine con le azioni è generoso e nobile ma vivere con la gratitudine sempre nei nostri cuori è un modo per toccare il cielo in conclusione questa mattina prego che oltre a tutto ciò per cui siamo grati riflettiamo sempre sulla nostra gratitudine per il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo e il suo glorioso Vangelo ci dà la risposta alle grandi domande della vita da dove veniamo perché siamo qui dove andrà il nostro spirito quando moriremo quel Vangelo porta la luce della divina verità a coloro che vivono nelle tenebre egli ci ha insegnato a pregare egli ci ha insegnato a vivere ci ha insegnato a morire la sua vita è un retaggio d'amore i malati che guarì gli oppressi che sollevò i peccatori che salvò alla fine egli si ritrovò da solo alcuni apostoli dubitarono uno lo tradì i soldati romani trafissero il suo costato la folla adirata gli tolse la vita ancora risuonano le parole compassionevoli che pronunciò sul Golgotha padre perdona loro perché non sanno quello che fanno chi era quest'uomo di dolore familiare con il patire chi è questo re di gloria questo signor dei signori egli è il nostro maestro è il nostro salvatore è il figlio di Dio è l'autore della nostra salvezza egli ci chiama venite dietro a me ci istruisce va e fa tu il similiante e chiede osservate i miei comandamenti seguiamolo emuliamo il suo esempio obbediamo alla sua parola nel farlo gli daremo il dono divino della gratitudine la mia preghiera sincera e sentita è che possiamo individualmente esprimere quella meravigliosa virtù della gratitudine possa esapermeare la nostra anima ora e per sempre nel sacro nome di Gesù Cristo il nostro salvatore Amen grazie a tutti grazie a tutti